Lei ha salvato una vita, insomma, è una cosa che non accade tutti i giorni. No, non accade tutti i giorni. Il mio unico scopo, mentre salivo le scale, era quello di fare il prima possibile e arrivare in cima. Nella mia testa il mio unico pensiero era quello di arrivare in cima e salvare la ragazza. Chi parla è Alberto Crispo, il poliziotto della Questura di Venezia e riuscito ieri nell'impresa tra le più pregiate il salvataggio di una vita umana, quella di una turista di appena vent'anni con intenti suicidi. La ragazza era in forte stato di shock quando lo tratte in salvo, non parlava con noi, era molto scossa, si vedeva in volto che era sotto shock. E mentre la ragazza già penzolava nel vuoto, è stata letteralmente avvinghiata dalla presa salvifica del poliziotto, l'ha afferrata proprio mentre si stava lasciando precipitare da quei 26 metri d'altezza dalla cima della chiesa degli Scalzi a Venezia. Miracolosa la corsa contro il tempo del poliziotto che decideva tra la morte e la vita della turista. Mi sono portato su, sul ponteggio, ho salito di corsa nel ponteggio, cercando di fare il più velocemente possibile, con l'unico scopo di riuscire a trarre in salvo la ragazza o evitare che potesse gettarsi nel vuoto. Trent'anni appena, marito e padre di due bimbi piccoli, e l'agente del NOP, il nucleo operativo Ordine Pubblico, in squadra con il collega Gianluigi Calabrese, in pattugliamento, antiborseggio e antiabusivismo, in zona stazione, oggi non vuole essere definito un eroe. Ho fatto solo il mio dovere, dice. No, eroe no, ho svolto solo il mio lavoro, quello che svolgiamo tutti i giorni, e sono fiero di essere della polizia e di essere accanto al cittadino. La pacatezza e la modestia di questa gente a molti di noi ricorda invece quanto l'impossibile diventi possibile soltanto a pochi eletti i nostri angeli eroi.